avrei potuto usare questo però è molto più divertente sono molto più figa così quindi vaffanculo a mio vicino e io non studio più e mi bocceranno alzame ma non c'è un modo per essere così figa anche nella realtà perché io andrei in giro senza troppi problemi poi fa caldo, dovrei studiare ma sono ore 19 il problema è che i fogli mi guardano e lo so che vogliono stare con me ma io sono una donna forte indipendente devo essere single quindi vaffanculo l'esame Anna stai studiando? mmmm siiii no 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 ma che poi c'è veramente una differenza tra mandare una mail al professore e non mandarla visto che ci vogliono 8 anni prima che uno mi risponda anche se non era una cosa importante il divertimento quando una tua amica ti chiama con il telefono del suo padre e quando ti risponde dice grappa e poi comincia a parlare io boh sarà il veneto in lei e poi perché nell'ultimo il collo così lungo comunque non importa adesso ho una scusa perché devo uscire a cena quindi ahimè non posso più studiare oh nooo come farò adesso? sto finalmente uscendo il mio bellissimo ascensore non ho sia vista la mia faccia a lei oh nooo come farò adesso e uscirò a cenare e dare i primi di cibo come giusto che sia allora sono qui a cena ho mangiato e si è vista la mia faccia normale di nuovo oh mio dio e sono piena di cibo ciao fans sono tornata a casa dalla cena e devo farmi la doccia e poi sistemare tutte le cose perché domani parto e torno in Italia ahimè ok allora adesso sono arrivata al massimo livello di figaggine sono struccata con sto coso in testa sti capelli di merda bagnati e devo lavare i piatti bene ho finito di preparare le cose mi sono fatta la doccia che capelli del cazzo che ho e e adesso basta è finita ciao ciao ok dopo aver visto il mio ultimo video avrete pensato finalmente era smettere di fare la cogliona ma no è troppo divertente quindi continuerà tutta la notte ciao che poi pensavo ma una canzone con questo effetto come diventa? sentiamo ho deciso che farò ogni giorno dei video così farò una serie e poi la metterò su youtube diventerò senza e ciao questo filtro ha un problema enorme cioè vedete le mie occhiaie? ecco ehm le enfatizza e questo non va bene non va bene assolutamente perché già sono giganti cazzo la 2-9 che è tipo l'alba per me anche perché sono le 2 e mezza e io non ho sonno cazzarola domandino far signore di macchina ma possiamo parlare di Ed Sheeran che nel video di prima sembra una bambina di 3 anni che canta ah 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 adoro questo filtro l'adoro 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 allora questo sarà l'ultimo video per questa sera ah 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 o no ehm perché devo andare a letto anche se non dormirò ma non importa buonanotte ciao ciao